iniziamo allora questa lezione sull'analisi modale tempo continuo dedichiamo questa lezione all'analisi modale tempo continuo la prossima è di esercitazione quindi poi la prossima di teoria affrontiamo il tempo discreto sarà molto breve perché andrà abbastanza in connessione rispetto al tempo continuo e poi facciamo un sorta di esercizio ricapitoliamo un po' quelli che sono i modi naturali quindi noi diciamo che per martedì se tutto va bene abbiamo completato questa prima parte del corso concettualmente diciamo un terzo del corso che è sulle basi dei sistemi di analisi in spazio di stato considero più o meno dal punto di vista concettuale questa separazione in tre le basi le proprietà strutturali e poi le applicazioni bene è quello che ho chiamato ingegneria che è quella che personalmente ritengo sia diciamo la cosa più importante e però senza per arrivare la quale però bisogna fare tutto quanto il percorso fatto bene altrimenti si perdono i concetti allora la lezione oggi vedrete che è anche abbastanza abbastanza semplice ok come l'audio e il video perché io diciamo non vedo nessuno di voi nessuno di voi ha la telecamera mi confermate che vado avanti? io si proposto va bene quindi vedrete anche che la lezione di oggi è particolarmente diciamo semplice sarà anche un po' più breve delle altre forse allora vediamo un attimo che cosa vogliamo fare noi adesso vogliamo imparare a calcolare la matrice di transizione dello stato per un sistema dinamico qualsiasi nel tempo continuo quella che si chiama analisi modale tempo continuo va bene? allora noi abbiamo già visto che una matrice dinamica quando il diagonale è caratterizzata da una matrice di transizione dello stato particolarmente semplice che sarebbe elevato da primo a T è semplicemente una matrice diagonale in cui il generico elemento sulla diagonale è elevato a lambda con i T dove lambda con i è l'autovalore corrispondente e per ottenere questo risultato abbiamo semplicemente utilizzato la definizione di matrice esponenziale quando ci troviamo in una situazione del genere l'evoluzione libera nello stato la cui espressione generica è questa diventa molto semplicemente questa espressione ora vediamo un attimo giusto così di di ricavarla ma è una è una banalità allora ho questa espressione se è primo e diagonale allora questo significa che io posso scrivere come elevato a lambda con 1 T poi elevato a lambda con 2 T elevato a lambda con N T 0, 0 che moltiplica x con 1 in 0 x con 2 in 0 x con N in 0 ok? allora come faccio questo prodotto? ormai l'abbiamo visto tante volte quando io vado a fare il prodotto il risultato questa matrice qua è N per N il vettore è N per 1 il risultato è N per 1 quindi il primo elemento è dato dal prodotto scolare della prima riga per il vettore e quindi questo poiché la prima riga è tutti elementi nulli tranne il primo è elevato a lambda con 1 T per x con 1 in 0 quando vado a fare per la seconda la seconda riga per il vettore e allora mi rendo conto che è elevato a lambda con 2 per x con 2 in 0 e elevato a lambda con N T per x con N in 0 ok? ora questo è una situazione veramente particolare perché particolare? perché io diciamo posso osservare che solamente l'autovalore iesimo influenza l'andamento questo qua è la componente l'evoluzione libera la componente 2 no? quindi e qui c'è lambda con 2 e qua xL con 2 di T ok? solamente l'autovalore corrispondente influenza l'evoluzione diciamo della generico stato però noi abbiamo visto la volta scorsa che in generale l'evoluzione libera di x con L di cioè del generico elemento dello stato in genere è influenzata da tutti quanti quindi posso scrivere per i che va da 1 a N un certo coefficiente alfa con i per e elevato a lambda con i T quindi nel caso generale tutti quanti gli autovalori concorrono a formare l'evoluzione libera di tutti gli elementi del mio sistema dinamico ho visto che però se ci sono degli zeri può essere che qualcuno di questi lambda con i non influenzi diciamo il ah chiedo scusa qui non posso usare lo stesso indice per per la sommatoria e per l'EI quindi questo qua diciamo che è il generico J va bene perché ho usato I ho usato I per la sommatoria per cui non posso non potevo usare lo stesso e l'errore mi sono accorto proprio perché quello che il concetto può esprimere è questo io qui diciamo ho tutti quanti gli n autovalori ma se ci sono degli zeri nella matrice dinamica non tutti influenzano la dinamica di tutti quanti gli elementi del vettore ora la matrice diagonale è una matrice particolare in cui tutti quanti gli elementi fuori diagonale sono nulli per cui questo significa che di fatto sono tutti quanti modi disaccoppiati ok è veramente una situazione particolare a senso matematicamente però se fosse il modello fisico di un qualcosa io investigherei meglio le equazioni con cui è stato ricavato perché di fatto sono tutte equazioni differenziali del primo ordine separate fra di loro allora quando è che ci troviamo una matrice diagonale beh tipicamente noi ci troviamo una matrice diagonale quando noi la sfruttiamo per calcolare la matrice di attenzione del stato di un sistema simile e quindi con una trasformazione di similitudine andiamo nella matrice diagonale ma allora questo che cosa significa? significa che se noi applichiamo una matrice di trasformazione di similitudine quello che noi stiamo facendo è dire x uguale p z in cui per esempio vogliamo trasformare in un sistema simile c'era un certo accoppiamento nella variabile diciamo x che è quella di partenza e io poi nel sistema simile ho una matrice diagonale però facciamo attenzione l'accoppiamento rimane perché la matrice p mi dà una combinazione lineare degli elementi dello stato quindi è come se io stessi cambiando lo stato e lascio lì l'accoppiamento va bene? quindi adesso noi che cosa facciamo? beh adesso quello che facciamo è sfruttare le proprietà dei sistemi simili che abbiamo visto la volta scorsa per calcolare la matrice di trasformazione al stato di un sistema qualsiasi e per farlo noi dobbiamo andare a utilizzare una diversa trasformazione quindi la matrice p a seconda di che tipo di autovalori o autovettori io mi trovo davanti va bene? quindi questo è quello che noi facciamo oggi in maniera abbastanza semplice più che altro è quasi un esercizio sul significato di autovalori e autovettori allora prendiamo il primo caso il primo caso è quando i miei autovettori sono reali e linearmente indipendenti allora io ho bisogno un attimo adesso di riflettere su come è stata scritta questa cosa che vuol dire reali e linearmente indipendenti allora il clear frame ok reali e linearmente indipendenti allora noi che cosa abbiamo visto? che se noi abbiamo una certa matrice dinamica io a questa matrice dinamica con diciamo la definizione posso associare cosa? n autovalori lambda con i ok e questi n autovalori lambda con i io so che possono essere per esempio reali e distinti quindi se sono reali e distinti in questo caso si dimostra ma è un risultato diciamo dell'analisi che non ci interessa che tutti cioè che non ci interessa ridimostrare chiedo scusa che tutti gli autoattori sono linearmente indipendenti dopodiché io posso avere gli autovalori che abbiano una certa molteplicità e allora che cosa abbiamo detto che noi abbiamo una molteplicità che chiamiamo molteplicità algebrica che è quella che voi avete già incontrato senza chiamarla algebrica e cioè quante volte lambda con i è una soluzione del polinomio caratteristico poi per ogni lambda con i abbiamo anche la possibilità di definire una molteplicità geometrica la molteplicità geometrica dal punto di vista diciamo puramente della definizione è il nullo di lambda con i meno a la sua interpretazione è quanti autovettori linearmente indipendenti io posso associare all'autovalore lambda con i quindi la molteplicità geometrica può essere minore o uguale di quella algebrica quando è uguale si dice che l'autovalore è regolare quindi se gli autovalori sono regolari questo implica che i iconi sono linearmente indipendenti ok per cui in realtà quando io vado a dire che sto considerando gli autovettori reali linearmente indipendenti non sto considerando solo il caso di autovalori reali distinti ma sto considerando anche il caso di autovalori regolari va bene quindi un po' più ampio allora come costruisco la matrice di trasformazione dello stato che diciamo storicamente nei libri di testo viene indicata con un'altra lettera ora capiamo perché per cui io ho preferito diciamo adottare questa quindi la P adesso è una B perché perché in realtà io faccio una cosa abbastanza semplice prendo gli autovettori e li metto tutti quanti uno a fianco all'altro sono tutte quanti delle colonne ne sono n per cui mi danno proprio una matrice quadrata bene ora e sono linearmente indipendenti per ipotesi perché sto considerando proprio questo sistema qua a questo punto se io utilizzo questa matrice di trasformazione dello stato il sistema simile ha una matrice dinamica diagonale e il legame tra le matrici dinamiche di due sistemi simili so essere questo dove V è la trasformazione di similitudine quindi io parto da una A qualsiasi utilizzo come trasformazione questa particolare matrice e arrivo in un A primo che è diagonale questo diciamo lo vediamo lo vediamo un attimo lo vediamo un attimo facilmente vediamo un attimo ok allora io che cosa faccio adesso scrivo un attimo beh questo qui lo posso un attimo importo un attimo l'immagine sul nel board allora posso vedere un attimo un attimo Grazie. Allora, io che cosa faccio? So che vale questa relazione, e questa è semplicemente la definizione di autovalore ed autovettore, e costruisco io questa matrice. Quindi io che faccio? Prendo AV con 1 e lo metto qua. AV con 1 ha dimensioni n per 1, va bene? Poi a fianco ci metto AV con 2 e poi vado avanti fino a mettere esattamente n colonne con AV con n. Ognuno di questi, diciamo, per definizione è uguale a lambda con i v con i, va bene? Quindi lambda con 1 v con 1, lambda con 2 v con 2 e così via. A questo punto io che cosa osservo? Beh, osservo che io qui posso mettere in evidenza a sinistra l'A, ok? Se io metto in evidenza a sinistra l'A, quello che ottengo qui è A, quindi devo dire da che lato, e poi rimane v con 1, v con 2, v con n, questo sarebbe il tratteggiato, che è proprio, diciamo, la matrice V, e qui, beh, io qui, diciamo, posso fare una cosa analoga, diciamo, al secondo membro, in cui io posso prendere e mostrare, diciamo, dalle operazioni, dalle operazioni matriciale, che questa matrice qua è lambda con 1, lambda con n, che moltiplica, beh, sempre la stessa cosa, questo V con 1 tratteggiato V con n. Ok? Quindi, una volta che ho mostrato questa cosa, sono arrivato alla soluzione, perché praticamente io qui ho AV uguale V per questa matrice diagonale, e quindi chiaramente io qui, diciamo, sono andato mnemonicamente e vi ho scritto la matrice invertita, e non so neanche se questo, diciamo, è commutativo, lo dovrei vedere, quindi è qui V che moltiplica lambda con 1, lambda con n, quindi mi correggo, ok? E basta, il risultato è ottenuto, perché praticamente questo qua lo chiamo A'', è quella del sistema simile, moltiplico per l'inversa e ottengo, diciamo, la dimostrazione. Ma allora, beh, allora il legame fra le matrici di transizione dello Stato è presto detto, perché io conosco qual è il legame fra le matrici di transizione dello Stato e due sistemi simili, e lo ottengo in questo modo. Quindi, guardate un attimo, la matrice diagonale è questa qui che sta al centro, elevato ad A'T, mentre V e V a meno 1 sono le matrici cosiddette modali, cioè le matrici utilizzate per la trasformazione di similitudine, e sono matrici piene, sono matrici n per n in cui ci sono gli autovettori. Io non ho nessuna ipotesi sulla direzione degli autovettori, cioè se sono elementi con 0 o meno, anzi tipicamente no. Quindi è vero che questa matrice è diagonale, però appena la moltiplico e posso cominciare a fare prima questo prodotto, poi questo non cambia nulla, questa diventa una matrice piena, e quindi E elevata a T non ha nessuna ipotesi sulla sua struttura, è una matrice generica, va bene? Per cui essenzialmente questo è il metodo che adesso svilupperemo anche per il caso complesso, questo è essenzialmente il metodo cosiddetto per diagonalizzazione, e questo è solo il primo dei tanti casi in cui noi sfrutteremo le proprietà di sistemi simili, perché? Perché nella forma simile una certa proprietà è più evidente, o è più facile da calcolare, per cui per esempio la matrice transazione dello stato, attraverso la matrice modale io posso in questo caso calcolarla per uno qualsiasi, va bene? Qui non c'è scritto nient'altro che quello che vi ho detto prima, e cioè se io ho autovolori distinti, allora ho autovettori linearmente indipendenti, però il concetto di autovettori linearmente indipendente non è necessariamente bionivoco, uno a uno, perché io li posso avere anche con autovolori, con moltiplicità algebrica maggiore di uno, a patto che questi abbiano una moltiplicità geometrica uguale a quella algebrica, che si chiamano poi, vabbè, regolari, va bene? Quindi questo è il primo caso. Vediamo il secondo caso. Il secondo caso è quando io ho una coppia di autovolori complessi coniugati. Allora, che cosa facciamo? Allora, vediamo un attimo dove siamo. Allora, a questo punto io ho una coppia di autovolori complessi coniugati, corrisponde, si dimostra, anche una coppia di autovettori complessi coniugati. Ora, qui c'è un attimo un minimo di attenzione da fare. Guardate, io ho lambda uguale alfa più j omega, che sono degli scalari. Quindi tipicamente, diciamo, convenzionalmente, io metto alfa più j omega e poi l'altro è il coniugato, quindi è meno j omega. E tipicamente omega è positivo, ma giusto così, per facilità, diciamo, di scrittura. Quando io dico che questo corrisponde un autovettore q più jr, beh, r è un vettore, non è più uno scalare, per cui r può essere composto da elementi che possono avere un segno qualsiasi. Quindi è importante, quando io vado a prendere questi numeretti, per esempio, da un programma di calcolo numerico, è importante che io associ l'autovalore all'autovettore corrispondente in base all'ordine con cui il programma mi li dà. Qua il segno non mi è di nessun aiuto. Adesso, la matrice modale come la costruisco? Beh, le prime n-2 colonne, queste, sono assolutamente identiche al caso che abbiamo fatto prima. E quelle corrispondono a tutti quanti gli autovettori linearmente indipendenti. Ok? Quindi sono tutti quelli che per ipotesi sono linearmente indipendenti. Poi nelle ultime due colonne che cosa faccio? Beh, metto la parte reale di un autovettore e la parte immaginaria dello stesso autovettore. Va bene? Allora, che cosa devo, diciamo, notare? che poiché A v uguale lambda v è una relazione che vale per autovalori e autovettori appartenenti ai complessi. Quindi la matrice A, per ipotesi, contiene solamente dei numeri reali. Però gli autovallori e gli autovettori sono complessi. Allora questo significa che io questa qua, chiedo scusa, che io questa qua la posso riscrivere nella forma reale e complessa e quindi anche questa la posso scrivere lambda con i lo posso scrivere nella forma reale più complessa. e a questo punto questo significa che questo è uguale a alfa q meno omega r più omega q più alfa r. Va bene? Quindi la parte reale è data dalla somma di questi due vettori e la parte più j ovviamente qua ci sta e la parte immaginaria è data da questo qua. Quindi questo che cosa significa? Che io, diciamo, posso semplicemente dire se io separo nella parte eguaglio la parte immaginaria è alfa q meno omega r come abbiamo visto e la parte, è la parte reale, chiedo scusa, è la parte immaginaria A per r è alfa r più omega q. Ok? Che è esattamente quello che abbiamo scritto. Per cui che cosa faccio? Mi costruisco questa relazione utilizzando questa matrice modale nella maniera assolutamente analoga a quanto abbiamo fatto nel caso precedente e ottengo che, ok, io prendo e metto in colonna tutte queste relazioni. L'unica cosa a cui devo fare attenzione sono le colonne n meno 1 e n in cui ci vado a sostituire il legame appena trovato. Quindi A per q è uguale a questa relazione qua e A per r è uguale a questa relazione qua. Ok? Ma a questo punto, mentre la parte sinistra è identica al caso precedente, nella parte destra io devo fare una piccola osservazione e vediamolo un attimo. Vediamolo un attimo. Grazie. Grazie. Allora, la piccola osservazione che io devo fare è che questa matrice qua si può dimostrare essere data dalla matrice modale che moltiplica questa matrice che è diagonale a blocchi. Per cui qui ho una matrice diagonale di tutti quanti gli autovalori reali. Qui corrispondono gli autovattori linearmente indipendenti fra di loro. E poi invece, per quanto riguarda la componente complessa che ho deciso convenzionalmente di mettere alla fine però non cambia nulla e io me la ritrovo qua alfa omega meno omega alfa. Se mi divertissi a fare il prodotto diciamo matriciale di V per questa cosa qui io otterrei che le ultime due colonne sono esattamente queste. Va bene? Per cui, in realtà, la mia A' è diagonale a blocchi non è proprio diagonale. Cosa cambia questo nel calcolo diciamo del matrice di transizione dello Stato? Beh, non cambia tantissimo perché sono in grado di calcolarla in maniera assolutamente diciamo analoga. Lo facciamo nel caso diciamo lo facciamo in un caso numerico dopo. Però vi faccio vedere adesso perché io ho una matrice diagonale a blocchi so calcolare banalmente il suo esponenziale di matrice. Allora se io ho una matrice del tipo E elevato ad AT in cui A è diagonale a blocchi e diciamo che c'è un blocco A con 1 un blocco A con 2 e poi tutti 0 T io dalla definizione so che questa è la sommatoria per i che vado a 0 è infinito poi ho questa matrice elevata alla K T elevato alla K vabbè va bene facciamo K che va da 0 diviso K fattoriale va bene ma questa matrice elevata alla K che è diagonale a blocchi se io me la calcolassi un attimo se faccio A1 0 0 A2 che moltiplica A1 0 0 A2 beh questa si dimostra A1 e A2 devono essere semplicemente quadrate ma non hanno necessariamente la stessa dimensione questo si dimostra facilmente essere uguale ad A1 quadrato 0 0 A2 quadro che quindi poi per diciamo generalizzazione mi permette di dire facilmente che in questo caso io posso portare il K qua va bene quindi quando è diagonale a blocchi si diciamo generalizza la proprietà della matrice diagonale che abbiamo già visto però il suo calcolo è estremamente semplice e quindi io da qui poi sono capace di calcolare la matrice di transizione dello stato va bene la cosa diciamo importante è l'assoluta arbitrarietà della posizione degli autovettori qua anche perché non esiste un ordine prestabilito degli autovettori addirittura se voi utilizzate un software lo stesso software su due computer diversi vi può dare l'ordine diverso degli autovettori degli autovolori perché magari diciamo è una versione leggermente diversa e ha deciso un modo diverso per ordinarli non c'è diciamo una regola precisa però non cambia nulla nella dimostrazione come li mettete li mettete la cosa viene bene lo stesso è chiaro che la parte reale la parte immaginaria del vostro autovalore complesso è meglio che le mettete vicine fra di loro per una questione di leggibilità poi del risultato però per il resto è assolutamente arbitrario ovviamente io posso generalizzarlo facilmente questo risultato non lo facciamo perché concettualmente non ci dà nulla in più però dal punto di vista della notazione diventerebbe particolarmente oneroso ok allora ci facciamo un piccolo esempio e lo carico qui ovviamente diciamo se avete delle domande interrompetemi anche così per darmi una prova che non sto parlando da solo perché siete tutti quanti senza video allora vediamo questa matrice questa matrice dinamica allora questa matrice dinamica è una matrice generica però diciamo potrei riconoscere con un po' di esperienza che è una matrice triangolare superiore a blocchi nel senso che se io diciamo isolo questo blocco 2x2 poi questo blocco 1x1 qua ci sono tutti i zeri per cui questo è una triangolare inferiore a blocchi allora l'autovalore qual è? questo è un autovalore e poi devo calcolare il determinante di lambda i meno a di questa parte qua 2x2 e questo è proprio alfa omega meno omega alfa cioè non è che l'ho scritto per sbaglio è così apposta per cui in realtà è abbastanza semplice qui isolare gli autovalori che sono calcolare non isolare che sono meno 4 e poi meno 1 più 2j e meno 1 meno 2j la prima cosa che osservo è che effettivamente questa era una cosa che avevo sbagliato proprio negli appunti precedenti e io avevo qua scritto meno 1 più o meno 2j va bene e poi sotto avevo scritto che l'autovettore era q più o meno j r diciamo questa è una notazione sbagliata perché non ci consente di capire quale autovettore è associato a quale autovalore va bene per cui questa qua non si può utilizzare come come notazione e infatti cioè infatti adesso diciamo con questa nuova notazione cioè questa quella corretta questo autovalore è associato a questo autovettore ok lo so perché mi sono stati dati in quest'ordine dal mio software va bene per cui poi l'altro è il coniugato associato all'altro a questo punto come costruisco la mia matrice modale beh la matrice per la trasformazione di similitudine è data da questo che è l'autovettore reale poi la parte reale e la parte immaginaria di uno degli autovettori complessi l'importante è che poi prendo l'autovalore corrispondente quindi questo qui è la mia matrice di trasformazione di similitudine e chi è a questo punto a primo cioè chi è il sistema simile beh il sistema simile se io lo prendo scusa il sistema simile se io lo prendo eccolo qua lo prendo qui dalla teoria ci devo mettere tutti quanti i autovolori reali e poi alfa omega meno omega alfa per quello complesso va bene quindi tutti quelli reali che significa solamente meno 4 e poi qua c'è alfa che sarebbe aspetta cambiamo cambio colore così lo associo proprio a lui quindi questo è alfa che alfa e omega poiché ho preso diciamo questo autovettore prendo il suo autovalore corrispondente va bene e poi meno omega alfa quindi qua meno 2 meno 1 ho cambiato di segno questo è a primo però a primo diciamo non ci non ci basta perché noi vogliamo calcolare la matrice di transizione dello stato e qual è la matrice di transizione dello stato è questa qui che ora vediamo qui ed è esattamente quello che vi ho detto prima io applico qui la definizione di matrice di transizione il lambda uguale meno 4 l'elemento 1 1 viene sempre moltiplicato per se stesso e basta per cui alla fine diventa la definizione disponenziale in questo caso di uno scalare quindi elevato a meno 4t mentre il blocco 2x2 è l'unico su cui un attimo devo ragionare e ragionando dico ma io questo già l'ho visto col metodo di silvester per cui io già so che quanto vale questo matrice di transizione dello stato vale elevato a un certo ht praticamente la parte reale che moltiplica coseno seno meno seno coseno della parte immaginaria va bene la parte reale è meno 1 la parte immaginaria è 2 quindi io qui ho la parte reale elevato a meno t e la parte immaginaria che moltiplica il coseno quindi vado a sostituire questo elevato ad ht qua dentro e elevato da primo t adesso a questa espressione qua che è diagonale a blocchi da questo il mio scopo è elevato ad at che si ottiene moltiplicando per la matrice modale e per la sua inversa e a questo punto che sarebbe questa la matrice modale e a questo punto però diciamo non ha molto senso farlo perché compaiono tutti quanti questi modi insieme in un'espressione che è abbastanza diciamo difficile se volete da leggere ok questa è l'operazione che vi ho appena descritto che va fatta diciamo adesso diciamo dalla leggerla dal punto di vista notazionale è poco bella da vedere però concettualmente questa è v questa è la matrice di modale a blocchi e questa è v e meno uno da calcolare ok allora voglio fare semplicemente un controesempio su che cosa sulla questione della molteplicità algebrica e della molteplicità geometrica e vi faccio vedere molto banalmente perché questa matrice è una matrice ora ce la calcoliamo un attimo a cui corrisponde un autovalore non regolare un attimo che sto cancellando la lavagna allora guardiamo un attimo qui noi abbiamo una matrice che è una matrice 2x2 triangolare superiore bene allora per le matrici triangolari gli autovalori sono gli elementi sulla diagonale quindi io non li devo calcolare c'è un altro valore con molteplicità algebrica pari a 2 io adesso voglio calcolare l'autovettore quindi per calcolare l'autovettore io che cosa devo fare beh so che devo calcolare lambda vabbè lambda con i nel senso per i meno a per v uguale a 0 ok questa è l'equazione che io devo risolvere ora chi è lambda e vabbè è proprio 2 quindi io devo calcolare 2 per la matrice di entità meno a perché questa è a non è che ci vuole molto a vedere che lambda i meno a è proprio uguale a questa matrice va bene e deve essere pari a 0 allora di fatto io che cosa sto facendo ricordiamoci ormai riga per colonna riga per colonna quindi la prima riga per colonna che cosa mi dà mi dà come equazione facciamolo giusto così 0 per v con 1 v con 1 non è il vettore è la componente v con 1 quindi 0 per v con 1 meno 1 per v con 2 uguale a 0 quindi qua implica banalmente v con 2 uguale a 0 e la seconda mi dà 0 uguale a 0 quindi praticamente la componente v con 1 è libera quindi l'autovettore che io associo all'autovalore è uno solo anche se l'autovalore ha una molteplicità doppia ed è l'autovettore che qui è indicato diciamo nella sua versione a norma unitaria ma in realtà è una direzione quindi il numero 1 è arbitrario ci potrebbe essere qualsiasi numero quindi c'è un solo autovettore questo significa che questo l'autovalore non è regolare ma a me perché mi interessa beh non è che mi interessa andare in concetti di geometria abbastanza avanzati che non si studiano e diciamo neanche quando io ero studente al vecchio ordine si studiavano mi interessa perché dal punto di vista il sistema dinamico e questo vi do solamente vi do solamente diciamo il concetto però non entriamo nel dettaglio questo giustifica la presenza dei modi t per elevato all'ambra t in effetti è necessario generalizzare il concetto di matrice diagonale di autovalore di vettore quella che si chiama forma brocco di Jordan va bene e non lo facciamo per cui in realtà diciamo il concetto di diagonalizzazione ha vari significati e se io diciamo sono costretto a ricorrere a questa forma di Jordan poi la sua matrice di transizione dello stato ha un'espressione di questo tipo che è abbastanza se volete complessa però cosa mi fa comparire ebbè mi fa comparire t per elevato all'ambra t quindi dal punto di vista diciamo della teoria dei sistemi quando io ho un modo del tipo t per elevato all'ambra t vuol dire che ho degli autovalori non regolari va bene non entriamo nel dettaglio questa parte diciamo non non ve la chiedo per cui la parte diciamo degli autovalori non regolari però mi fa comunque piacere lasciarla qui scritta perché in qualche modo questo diciamo non lascia un eventuale dubbio del tipo ok è uscito fuori e elevato all'ambra t è uscito fuori e elevato ad alfa t più coseno di omega t di quello che ho studiato in fondamenti dov'è il modo t per elevato all'ambra t o diciamo poi vedremo anche t per elevato ad alfa t coseno di omega t beh sta qui negli autovalori non regolari ok che non facciamo tra l'altro la forma di Jordan è una cosa abbastanza matematica ma poco ingegneristica perché gli algoritmi per individuarla sono numericamente instabili saltiamo se qualcuno ha delle curiosità se lo guarda e poi se vuole fare delle domande ma sono numericamente instabili saltiamo anche il concetto di polinome minimo forse l'avete fatto però è una definizione che sta qui per completezza però non pregiudica la comprensione che possiamo avere e finiamo questa lezione che vi ho detto breve spero anche semplice nel senso che tranne il concetto di autovalore regolare però abbiamo visto l'altra volta e stiamo facendo a rivedere noi qui abbiamo sfruttato solamente le proprietà base delle matrice per cui diciamo e delle funzioni analitiche intese come una funzione esponenziale quindi spero che vi risulti semplice questa lezione quello che vorrei vedere adesso con voi è una interpretazione del autorettore una interpretazione grafica giusto per entrare un po' nell'ordine delle idee di che cosa sono gli autovalori gli autorettori che proprietà contengono ovviamente sono concetti che prescindono dalla teoria dei sistemi sono molto più ampi allora se io prendo una matrice dinamica con tutti quanti gli autovalori reali facciamo gli autorettori linearmente indipendenti va bene allora la prima relazione che diciamo non abbiamo ancora non abbiamo mai dimostrato è questa la vogliamo vedere un attimo questa diciamo è abbastanza allora vediamo un attimo se io riesco a ricavare questa questa relazione allora allora elevato a t la sommatoria facciamo k per k che va da 0 è infinito di a elevato alla k per t elevato alla k diviso k fattoriale questo moltiplica v con i ok ora questo è uguale è uguale io a questo punto diciamo posso portare viconi dentro la sommatoria faccio semplicemente il prodotto di viconi per ognuno di questi elementi e dopo posso anche invertire qui questo qui è uno scalare lo porto a destra e questo lo porto dentro ok quindi io posso scrivere che questo è uguale alla sommatoria per k che va da 0 è infinito di a elevato alla k per viconi fratto k fattoriale per t elevato alla k ok ora a al quadrato per viconi e questo qui a chi è uguale beh questo qui è uguale a a per lambda con i per viconi è giusto? allora questo significa che io posso portare lambda con i qui faccio un'altra volta l'operazione e ottengo che questo qui è uguale a lambda con i al quadrato per viconi allora questo significa che io qui ho molto semplicemente vado vado a capo cancello questo cancello questo e vado a capo ho molto semplicemente uguale uguale sommatoria per k elevato a 0 è infinito di lambda con i elevato alla k per viconi su k fattoriale per t elevato alla k però a questo punto io che cosa faccio? questo qua me lo riporto prima qua e poi lo metto in evidenza a destra quindi questo qui diventa molto semplicemente la sommatoria senza il viconi ma questa già la conosco perché questa è la definizione di esponenziale lo sviluppo in serie dell'esponenziale scalare quindi questo è elevato a lambda con i t e poi a destra rimane v con i che è esattamente quello che c'è qui va bene? quindi semplicemente dalla definizione io ottengo questa cosa guardate è abbastanza interessante cerchiamo un attimo di dare un'altra interpretazione a questa cosa qual è l'evoluzione libera? di un sistema dinamico beh l'evoluzione libera del sistema dinamico lo scrivo qua è x con l di t è uguale elevato ad a t per x in 0 va bene? ora se io come condizione iniziale x con 0 prendo proprio un autovettore che cosa ottengo beh ottengo questo c'è una cosa molto strana sto eccitando solamente l'autovalore corrispondente e la mia evoluzione rimane sempre confinata nella direzione dell'autovettore gli autovettori rappresentano quindi delle sorte di direzioni non privilegiate ma che contengono delle informazioni abbastanza importanti per cui se vado a considerare come condizioni iniziali queste io vado proprio ad eccitare solo il suo autovalore ricordiamoci l'evoluzione libera è sempre data dalla combinazione lineare di tutti quanti gli autovalori in questo caso invece riesco a isolarne uno solo quindi se io considero come ho appena detto uno stato iniziale parallelo all'autovettore e allora l'evoluzione libera lo scritto sopra è già qui in questa pagina è proprio questo ok se gli autovalori sono linealmente indipendenti vuol dire che sono una base per rn vuol dire che qualsiasi punto di rn può essere rappresentato come una combinazione lineare delle base definizione di base di vetture e allora questo significa che io posso scrivere questa serie di uguaglianze e che cosa dico questa è l'evoluzione libera di un qualsiasi punto ma questo qualsiasi punto lo posso sempre scrivere come combinazione lineare degli autovettori ma allora questo significa che io porto dentro elevato a t per radiconi e ottengo questa sommatoria qui ma è quello che abbiamo appena dimostrato quindi questo significa che io posso scrivere l'evoluzione libera come una combinazione lineare tramite gli stessi coefficienti delle singole evoluzioni lungo gli autovettori ognuna delle quali eccita solamente l'autovalore corrispondente e facciamo un piccolo esempio spietto bene per avere la rappresentazione grafica io limito il mio caso numerico a 2x2 quindi con uno stato che ha due componenti e questa è la mia matrice dinamica che ho scelto meno 1 1 0 meno 2 gli autovalori ormai l'abbiamo capito sono gli elementi sulla diagonale perché è triangolare e superiore quindi meno 1 e meno 2 calcolo gli autovettori ve li faccio calcolare da un programma e quindi ho questo è un autovettore e questo è l'altro autovettore adesso disegno questi sul piano cosiddetto delle fasi si chiama quando io metto gli stati nell'asse ed è quello che voi avete fatto nella simulazione io metto x1 qui x2 qui questi due vettori neri sono gli autovettori questi pallini russi sono delle potenziali partenze diciamo x con 0 di evoluzione libere allora quello che adesso quello che adesso voglio fare cancello un attimo diciamo la lavagna e poi la metto allora un attimo che mi si è bloccato vabbè allora un attimo solo che ho bisogno di un secondo devo ricaricare il pdf Allora, che cosa voglio fare adesso? Beh, io adesso voglio provare un attimo a vedere se sono in grado. Voglio vedere se sono in grado di disegnare nello spazio delle fasi l'evoluzione libera. Quindi x con L di t è uguale a e elevato a t per x in 0. x in 0 ho detto che sono questi punti qua. Ora voglio vedere qualitativamente quale può essere l'andamento. Però ho anche visto che io questa cosa qui sono in grado di scriverla come un certo alfa con 1 per elevato a lambda con 1 e t per v con 1 più alfa con 2 per elevato a lambda con 2 e t per v con 2. Un attimo. Quindi alfa con 1 e alfa con 2 sono la proiezione alla fine di questo punto su queste direzioni. Cominciamo col primo punto. Allora, cominciamo con questo qua. E io adesso voglio dire, ok, qual è l'evoluzione di questo punto? Ho scelto proprio, quindi, v con 1 e v con 2, fatemi vedere qual era il loro valore. V con 1 è 1, 0, quindi me lo riscrivo un attimo qua. Quindi questo è v con 1 e questo è v con 2, ok? E ho che lambda con 1 era meno 1 e meno 2, quindi lambda è uguale a meno 1 e meno 2, ok? Allora, adesso che cosa voglio fare? Voglio dire, ok, se questo qui sono le tue condizioni iniziali, quindi in questo punto qui, x è uguale a v con 2, quale sarà l'evoluzione nello spazio delle fasi? Beh, in questo caso io me lo posso scrivere, perché questo è x evoluzione libera di t è uguale, guardate, alfa con 1 vale chiaramente 0, perché se io devo scrivere x con 0 come combinazione lineare dei due vettori, è semplicemente dare a v con 2. Per cui questo sarà dato da e elevato a lambda 2 t per v con 2, quindi e elevato a meno 2 t per v con 2. E allora, guardiamo un attimo, ragioniamo un attimo. Questo è uno scalare e questo è un vettore, che è proprio questo vettore qua, ok? Che stiamo considerando. Per cui questo significa che l'evoluzione libera, fate attenzione adesso, dal punto di vista della direzione sarà sempre parallelo a v con 2, però cambierà il suo modulo. In t uguale a 0 questo vale 1, per t che vale infinito vale 0. Quindi qual è l'evoluzione nello spazio delle fasi di questa partenza da queste condizioni iniziali? E questa qua. Va bene? Ovviamente è un segmento, adesso non mi è venuto benissimo ricalcandolo, però questo è chiaramente. Ora, qual è la stessa cosa partendo da v con 1? La facciamo giallina. Il ragionamento è esattamente lo stesso, per cui io posso direttamente dire che questo è un segmento. Cambia solo l'autovalore, che è elevato a meno t. Vediamo anche qual è la partenza da quest'altro punto qui, che ha coordinate meno 1, 1. Guardate, questo è ancora parallelo a v con 2, però ho cambiato di segno. Per cui questo qui, faccio tratteggiato, fa la stessa cosa e va nell'origine furbù. Ok? Qual è l'evoluzione libera per i punti invece che sono una combinazione lineare, a questo punto di v con 1 e di v con 2? Beh, l'evoluzione libera a questo punto contiene entrambi questi termini e questa evoluzione libera deve tener conto del fatto che ci sono due costanti di tempo diverse. Quindi che significa? Vanno tutte due a 0, perché elevato a meno t va a 0, elevato a meno 2t va a 0. Però uno va a 0 più veloce dell'altro. In particolare, qual è più veloce fra meno 1 e meno 2? Ve lo ricordate? Come se fossero dei poli. Ok? C'è nessuno? Meno 2 più veloce. Esatto. Per cui questo significa che si estinguerà di prima quello più veloce, cioè meno 2, e quindi quando, diciamo, io sono, dopo che si è estinto il più veloce, io rimango solamente con quello più lento. quindi quando io vado a disegnare lo spazio delle fasi di questo qua, lo disegnerò che poi alla fine diventa tangente a v con 1. Va bene? È la stessa cosa per questo. Questo è, diciamo, un esercizio che ci permette di capire un po' meglio lo spazio delle fasi e come si comporta lo stato. Alla fine questa è la simulazione numerica di quello che vi ho appena detto, e quindi come vedete poi alla fine diventano paralleli a v con 1. Il diagramma dello stato paramezzato nel tempo si chiama, diciamo, traiettoria o orbita. Va bene? Questo è il termine tecnico. Facciamo altri due esempi e poi ci salutiamo. Vediamo, ma che succede se un autovalore vale 0? Beh, un autovalore vale 0 e elevato a 0 t vale 1 vuol dire che c'è un modo che non si estingue. In questo caso è quello parallelo a v con 1 perché è il primo autovalore. L'altro invece si estingue. Quindi se io parto da un punto qualsiasi, alla fine, al regime, deve essere parallelo a v con 1. Infatti qui, se vedete, sono parallelo a v con 1. Va bene? Questo quindi è l'orbita nel caso in cui ci sia un autovalore uguale a 0 e che succede se c'è un autovalore complesso coniugato. E questo è quello che avete fatto voi numericamente. Nel caso di autovalore complesso coniugato, questo è il comportamento, diciamo, del mio sistema di diagramma. Va bene? Quindi queste sono le rappresentazioni grafiche di quello che abbiamo visto delle proprietà di autovalore ed autovalore. Se volete in qualche modo capire se vi piace la geometria più sulle interpretazioni di autovalore ed elettore, io qua vi ho messo un semplice link a, diciamo, un sito che ha un'interpretazione interattiva. Ok. Allora, come vi avevo detto, diciamo, la lezione di oggi è particolarmente, diciamo, un po' più breve. Noi, la prossima lezione che faremo di teoria, in realtà, che cosa facciamo? Sarà anche una lezione abbastanza, tra virgolette, diciamo, semplice. Io non sto avendo molta interazione da voi e mi dispiace perché mi aiuta quando invece voi fate delle domande o dei commenti. Quello che spero sia la prima parte del corso per voi, cioè quella che si completa oggi, è una parte che, per quanto noiosa, non è, diciamo, concettualmente particolarmente complicata. Nel senso che, lo so che le matrici voi non le ritrovate molto spesso, però se fate elaborazione delle immagini, le matrici sono da tutte le parti, la SDD per esempio, però non dovrebbe essere concettualmente troppo difficile questa prima parte. E continuiamo così anche con martedì prossimo, vi annoierete, ma non sarà difficile, facciamo degli esercizi di analisi. queste due, no, tre settimane di corso, perché alla fine abbiamo fatto già abbastanza lezioni, servono per cominciare a entrare piano piano in quelle che sono poi le proprietà dello spazio di Stato, che continuano invece con le lezioni poi invece di mercoledì prossimo, in cui iniziamo a parlare di quelle che sono le proprietà strutturali, e lì entriamo in degli aspetti che sono concettualmente specifici nello spazio di Stato, e che fanno capire veramente qual è l'importanza di dotarsi di questa, ancora non lo capiamo, ancora abbastanza astratto quando studiamo quelle proprietà, però poi vi faccio vedere quali sono i possibili conseguenze di ignorarlo quando andremo a fare le applicazioni, però diciamo qua sono proprietà strutturali dei sistemi di Ange in qualsiasi Stato. Invece do venerdì noi continuiamo a fare delle cose ancora abbastanza semplici, in MATLAB sarà MATLAB però per me è la stessa cosa ma anche un secondo domande? No prof. ok, allora nella speranza che la prossima volta che siamo in remoto avrete una connessione migliore, io vi saluto e metterò a disposizione il video fra poco a disposizione. Va bene? Va bene. Arrivederci. Grazie, arrivederci. arrivederci. E arrivederci. Grazie. Grazie a tutti